Chi è di turno? All'heder, all'heder, fioi, all'heder Chi è di turno? In due anni di guerra, nelle mischie terribili, davanti a schiere di uomini falciati, io... Non ho mai provato il sentimento che provo adesso, per questa lenta, metodica, inutile strage, no, no Non ci sono ordini buoni o ordini cattivi, ordini giusti o ordini ingiusti L'ordine è sempre lo stesso, il diritto assoluto all'atrui obbedienza Grazie! 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 Grazie!